In questa speciale serata vi vorrei presentare un bellissimo amico, fraccasso da Belletri! Il suo dono, misterio di Palermo, maestrano, vengono a saltare! Vai! Se mai! Perché lui! Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Ma è difficile a farlo con te! Molo! Lui chi è? 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 Grazie a tutti!